Per i migranti l'Italia e la Toscana non sono più la terra promessa. La crisi economica ha reso infatti meno appetibile il nostro paese per chi è in cerca di un lavoro, così come confermato dal dossier statistico sull'immigrazione presentato nella sede della CNA. Per il secondo anno consecutivo cala infatti il numero di lavoratori stranieri. Attivi in Toscana 246.000 persone, che significa un meno 1,1% su base annua. Diminuiscono anche le rimesse, ovvero i soldi inviati dagli stranieri nei loro paesi d'origine. Dai 604 milioni di euro del 2013 si è passati ai 587 milioni dell'anno scorso. Nonostante questo la Toscana rimane terra di immigrazione. Nel 2014 i residenti stranieri sono risultati essere 396.000, ovvero il 10,5% del totale, più della media nazionale ferma all'8,2% e di quella europea che si assesta al 6% circa. Che la Toscana sia una delle grandi regioni di immigrazione d'Italia lo si capisce anche guardando a quello che succede fra i banchi delle nostre scuole. I bambini, gli studenti, gli alunni stranieri iscritti a scuola sono circa 65.000, più di uno su due, il 55% è straniero ma è nato in Italia. Un dato che fa ben sperare nel futuro, mentre per il momento la tendenza sembra quella dei lavoratori stranieri ad abbandonare la nave Italia. 14.737 permessi di soggiorno per lavoro e motivi familiari scaduti e non rinnovati nella sola Toscana. Un duro colpo per l'intero sistema economico. La maggior parte degli immigrati regolari in Toscana lavorano proprio nelle aziende che noi rappresentiamo, nelle piccole e piccolissime imprese, quelle che vanno da uno a nove dipendenti. E tra l'altro c'è anche un fenomeno importante che riguarda gli imprenditori immigrati in Toscana, si parla di quasi 50.000 imprese condotte da immigrati. L'appello della CNA alle istituzioni regionali dunque è quello di mettere in campo ogni misura per favorire la ripartenza delle imprese, comprese quelle gestite da migranti.